Ci sono degli episodi veri. L'uscita è vero che si è sentita male e che poi Borsellino rischiando contro tutti e tutti l'ha portata a Palermo, dove poi ha preso le carte per poter lavorare. E questo è un episodio vero. È vero il modo in cui li hanno presi per portarli all'Asinara, anzi più drammatico. Addirittura la famiglia Borsellino è stata messa praticamente in un caro armato da questa casa al mare all'aeroporto. Il fatto che Paolo Borsellino torni con le carte fa emergere nel film e quindi le chiedo se queste carte forse non sarebbero mai arrivate. Ma ci sono tantissime versioni e ognuno ha una memoria diversa, dal che ho capito che ognuno ricorda quello che vuole ricordare. Allora c'è chi dice che le carte sono arrivate a un certo punto, c'è chi dice che sono arrivate con Paolo, c'è chi dice che forse Falcone c'aveva una cosa dentro la borsa. Io penso che tutti quanti, il pool Caponetto e tutti quanti in quel momento volevano che Falcone e Borsellino facessero il maxiprocesso. Quindi in qualche modo l'avrebbero risolta.